Ci troviamo oggi alla Biblioteca Braille, la biblioteca di Baia Flaminia, uno dei tanti luoghi che in questo 2023 vengono ripensati, rinnovati in vista di Pesaro Capitale della Cultura 2024. Biblioteca che ha un rinnovamento strettamente legato alla specificità di questo luogo, quello di Baia Flaminia, quello della Osi delle Tartarughe, che è nata a partire dal 2019 in questa zona della città, un progetto di rinnovamento che è stato presentato oggi dal Comune di Pesaro, dalla Biblioteca, dal quartiere di Soria, dal Parco San Bartolo, dalla Guardia Costiera e dalla stessa Fondazione Cetacea. La struttura è stata rinnovata, abbiamo cercato anche di lavorare sulla sostenibilità mettendo appunto la parete ventilata e poi ci sono arrivate le tartarughe e da lì siamo partiti. Abbiamo fatto un investimento ovviamente comprando i libri per i bambini, facendo dei percorsi con le scuole, allestendo una sala del viaggiatore dove accogliamo i turisti pesaresi che vuol venire per scoprire, per leggere i libri sulla natura, i libri sul mare, i libri sull'ambiente, sulle tartarughe e poi da qui trova anche il percorso già segnalato nella piazza per arrivare all'Ido Pavarotti dove appunto la famosa tartaruga ci ha dato il segnale che era arrivata. La visione d'insieme che inizia con il cappotto esterno fatto da materiale che c'è anche familiare, ceramica, hypergresso, quindi anche per motivi di contenimento della dispersione di calore e proseguita poi con gli spazi interni riqualificati a partire dalla sala del viaggiatore che è una sala dedicata all'inclusione, dedicata agli spazi, dedicata alla comunicazione aumentativa anche negli strumenti digitali e più in generale tutta la sala interna con gli apparati audio-video e anche i libri tattili che permettono appunto la frequentazione dei contenuti a 360 gradi per tutti e tutti insieme. Il lavoro di segnaletica che mancava alla biblioteca nel senso che non era indicata esternamente, in realtà abbiamo approfittato per indicare la biblioteca Braille, per indicare anche i contenuti, per indicare anche questo legame con la fondazione Cetacea e il progetto delle tartarughe legato a quanto accaduto nel 2019 con la schiusa delle uova, quindi abbiamo fatto un po' di storia ma anche un po' di presente perché racconta anche l'attività che è assieme alla fondazione sulla cultura del mare innanzitutto ancora prima che della tartaruga. Tanti elementi di rinnovamento alla biblioteca all'interno con un filo conduttore dedicato alle tartarughe, alla natura, al tema del viaggio, tanti elementi nuovi anche all'esterno a cominciare da un gazebo per le attività in questa piazzale Europa, piazzale in cui ci sono anche diverse nuove segnaletiche che fanno da filo conduttore da ponte con l'oasi delle tartarughe nel Lido Pavarotti e poi c'è la tenda che vedete alle mie spalle, la tenda della fondazione Cetacea, una sorta di laboratorio mobile che verrà piazzato in piazzale Europa per quello che riguarda la stagione invernale e verrà spostato in spiaggia da maggio a settembre. Fondazione Cetacea ormai da tre anni, dal fattivico luglio del 30 luglio del 2019, ormai quest'anno e quarto anno, sta facendo un'attività a Pesaro che è un'attività molto visibile da una parte ma anche molto importante perché noi cerchiamo di riabilitare alla vita marina animali che sono stati curati a lungo in uno spazio chiuso quindi la caletta di Pesaro ha questo grande pregio di mettere a disposizione al centro ricerca tartarughe marine di Riccione certo ricupore di tartarughe marine uno spazio in cui verificare se c'è la possibilità di rimettere in mare questi animali è una cosa che è l'unica in Italia, siamo molto grati al comune di Pesaro di averci seguito in questa avventura che è sicuramente un'avventura azzardata per alcuni aspetti, però è unica in Italia.